non è esattamente così l'influenza non è stagionale perché il virus muta il virus muta ed è un dato di fatto vengono identificati virus in altre regioni del mondo si crea un vaccino e ogni anno noi dobbiamo fare un vaccino adeguato alla mutazione dell'anno stesso quindi questo spiega come mai il vaccino dell'influenza sia consigliato ogni anno e non ogni tre anni per esempio comunque è un ciclo legato anche alle stagioni e quindi l'inverno la stagione dell'influenza